ciao ragazzi e benvenuti a tutti in un nuovo video ragazzi io sono fox e oggi rispondo a una vostra domanda ragazzi ricorrentissima sia su tik tok che su qui youtube mi avete richiesto tante tante volte e oggi finalmente ho trovato il tempo e il modo di farvi questo video quali sono i componenti di un impianto fotovoltaico off grid ok mi avete richiesto una sorta di lista quali sono i componenti fondamentali di un impianto off grid per chi non lo sa gli impianti off grid sono ragazzi gli impianti scollegati dalla rete o meglio gli impianti che hanno un inverter ok off grid ok un regolatore di carica che è quello che si interfaccia tra i pannelli e le batterie bene e poi abbiamo le batterie gli impianti off grid devono per forza avere il gruppo batteria ragazzi al 90 per cento sì perché essendo un impianto ad isola come funziona di giorno produce con i pannelli solari ma di notte cosa usi cosa sfrutti l'energia accumulata e prodotta durante il giorno riversata nelle due batterie e avrai luce h24 ok energia elettrica h24 perciò componenti batteri e life più 4 piombo gel lidio ioni elettivo tantissime chimiche differenti in base al vostro budget di spesa io nel mio impianto utilizzo life più o 4 in questo momento e poi inverter inverte esistono vari inverter ci sono gli ibridi come i miei ibrido cosa vuol dire che include dentro tutto ciò che serve per organizzare utilizzare l'impianto ragazzi un ibrido ha dentro un regolatore di carica da pannelli solari un regolatore di carica da rete elettrica e un inverter che ti innalza la tensione delle batterie e la sale a 230 volt poi a una sorta di smart ecco modulo smart che ti interfaccia con il web e tramite un app vai a vedere tutti i dati in tempo reale o quasi come i miei ragazzi e poi ci sono gli inverter non ibridi che fanno solo da innalzatore da 48 a 230 volt di conseguenza se non si punta su un ibrido ma si punta su un inverter a sé serve anche un regolatore di carica a sé ok perché ovviamente quell'inverter non ha dentro anche il regolatore di carica poi servono i cavi cavetteria ad alta tensione 230 volt e a bassa tensione 48 24 o eventualmente 12 volt poi servono le protezioni fusibili magnetotermici differenziali o magnetotermici sezionatori il tutto ragazzi ovviamente ben progettato per l'impianto poi cosa servono i pannelli pannelli solari fotovoltaici esistono monocristallini policristallino o amorfi io nel mio caso utilizzo dei monocristallino perché cioè di ultima generazione 360 bar a 65 watt ma nel concreto abbiamo visto che riescono arrivare anche a molto molto oltre poi cosa serve e allora nella parentesi pacco batterie che batterie utilizzate se puntate a una leaf e più quattro la volete costruire voi o dovete prenderla già assemblata se la dovete costruire voi ragazzi sarà un casino perché c'è tanto da lavorare e vi servono altri componenti come la bms ora esistono vari tipi di bms io fino ad oggi ho utilizzato e puntato sempre solo su bms all in one vuol dire che hanno all'interno sia la parte di bilanciatore che la parte di controllo potenza perciò grazie a questa bms che nel mio caso se non lo sai va nel canale se non sei ancora iscritto iscriviti vai a vedere tutti i miei video che ti spiego passo passo tutti i miei step per andare a costruire il mio impianto se non lo conosci vallo a vedere io ho fatto anche la batteria assemblata da me ho acquistato le celle ho acquistato il bilanciatore ho acquistato la bms ho acquistato tutto singolarmente e ho fatto il mio pacco batterie 15 kilowattora ok se invece vai a prendere un pacco batterie bello pronto è fatto deve andare semplicemente a cablare positivo negativo all'inverter o eventualmente al regolatore di carica se stai usando un inverter non ibrido ok poi cosa servono le strutture per i pannelli bene struttura per i pannelli anche qui in base al numero di pannelli alla tua idea cioè quanto devono essere inclinati questi pannelli ragazzi io ho utilizzato una struttura ibrida ok ho fatto un combo tra zavorre in cemento e poi li ho costruito sopra quelle ho costruito una struttura in acciaio con inseguitore solare mono masse che mi permette di inclinare automaticamente i pannelli durante le stagioni in estate staranno belli bassi in inverno però li alzerò tutto automatico ragazzi giornalmente loro compiono questo movimento notte mattina si alzeranno piano piano seguendo e tracciando il sole e allora se non hai tanta manualità tanto budget da spendere puoi andare anche a costruire ore ma acquistarti una struttura belle buona con inclinazione fissa poi cosa servono abbiamo detti cade abbiamo detti i fusibili abbiamo detto bms batteria inverter e poi servono i display ok i display dove andare a vedere in tempo reale il consumo del tuo appartamento dove andare a vedere eventualmente lo stato di carica della batteria quanta potenza la batteria sta dando in uscita ragazzi sotto in descrizione trovate tutta una sfilza di componenti per gli impianti off grid vedrai che sono davvero davvero tanti se il tuo impianto deve essere un impianto cazzuto ragazzi come il mio ma potrete anche farlo semplice 8 cioè una stringa fotovoltaica che perciò dei pannelli in serie un regolatore di carica o meglio ancora se volete facilitarvi la vita invertere ibrido pannelli inverter ibrido batteria uscita dalla batteria ingresso all'inverter e poi dall'inverter esci e vai nel tuo appartamento ragazzi come hai visto quattro componenti base se proprio devi farlo stretto 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 batteria inverter ibrido pannelli e poi ci sono i cablaggi cablaggi e fusibili magnetotermici e roba varia sezionatori e roba varia se vuoi altri video sulla tematica ti dico che già sul mio canale ci sono tantissimi video dove andiamo a costruire il quadro di campo dove andiamo a costruire tutto il mio impianto dove ti mostro cosa ho fatto e come fare ragazzi per questo video è tutto vi ringrazio per la visione grazie belli a tutti al prossimo video